Sono un professore e ho creato il mio canale YouTube per i miei studenti, ma ho avuto anche una certa seguenza di professori e di altre scuole italiane. E' per questo che ho aggiunto in mio canale contribuzioni sia di miei video e di altri film, con copiocatori che non sono i miei. I know there is such a thing as fair use, and considering the purpose and nature of the use, the nature of the copyrighted work, I believe my case falls within the scope of fair use. Therefore, I want to request you to return the monetization to me in the future as well. Best regards.